Il grande giorno è arrivato! Faccio preparare i cannoni! Oh, vedo l'ora! E io stavolta non posso far niente per impedirlo! Avevamo scommesso che non te la saresti mai cavata da sola! Sì, infatti, sono d'accordo, è un affare da veri uomini! I soliti maschilisti, non li sopporto! Eh? Non so! Ciao, fatti sentire! Al conto pensaci tu! Ecco perché non ne parla! Beh, adesso posso raggiungerla! George, che cosa ci fai tu qui? Fammi indovinare, scommetto che hai fatto un giro alla stazione e per caso sei arrivato proprio qui! Stavo facendo una passeggiata! Avevo voglia di fare quattro passi! E va bene, ti ho seguita, ero troppo curioso di sapere cosa nascondevi, adesso però non ti arrabbiare! No, solo perché non ne ho la forza e mi hanno prosciugato tutte le energie! Ti va di fare due passi? E così ti hanno fatto una sorpresa! Era meglio se non venivano! Non cambieranno mai! Per quanto faccia mi considereranno sempre una femmina! Faccia mi... Per te è facile! Tu non hai niente! Perché ridi? Perché penso che la faccia storta! Sì, figurati! Alice era troppo misteriosa, anche George se ne è accorto! Ma dove può essere andata? Eccola, è lei! Ma quello... Quello è George! Lo vuoi sapere un segreto? Ho dormito con l'orsacchiotto... Che scemo! Ora però devi promettere di non dirlo a nessuno! Non ci posso credere! George ci sta provando! Giuro che questa volta me la paga! Ci siamo quasi! Ancora una! Mai visto niente di simile! Sono morbide come degli elastici! Ma che materiale è? Le sbarre per contenere le perdite! Però come facciamo con quelli gelatinosi? Potrebbero sgusciare... È assurdo! Alice e George... Che fan piccioni romantici sul lungomare! Oh! Ehi! Vuoi stare attento? Stupido ingenuo! Maledizione! Aspetta, faccio io! È tutto ancora così? È strano! Non è strano! Insomma, hai sempre lavorato da solo da quando... Da quando è successo... Da quando Sofia mi ha lasciato! È questo che volevi dire, non è vero? Da quel momento ho rinunciato a ogni contatto umano! E purtroppo, adesso sei costretto a sopportare me! È un sacrificio così grande! Nila, io... Papà, non sai che... Ma cosa? Ciao, papà! Davide, ti prego, non è come credi! Ah, davvero? E allora sentiamo, spiegami com'è! Nila mi stava ringraziando... Davide, tu non vuoi capire se solo mi lasciassi parlare! Io non tollero che tu ti rivolga a un bambino in questo modo! Non scusati subito! E perché? Scusati subito! E perché? Scusati subito! E perché? Scusati subito! E perché? Non ero preparato a tutto questo... Hai sentito? Sembrava un'esplosione, non lontana da qui! L'ultima volta che ho sentito un boato simile a... Il giorno del primo a Octavia! Edward, sono tornati! La città è nuovamente sotto attacco! Non c'è tempo da perdere, chiamiamo i ragazzi! Ah, questo vento è davvero insopportabile! Oppure qualcosa di peggio! Professore, cosa succede? Sto cercando di rintracciare Davide e George! George è qui vicino a me! Siamo di nuovo sotto attacco! Il radar segnala... Questa volta sembra che l'attacco provenga dal mare! Sì! Non rilevano presenze aliene! Ma perché? In effetti è strano! Forse... Dobbiamo pensare a proteggere la popolazione di Octavia! Distruggeranno ogni cosa per scovarci e farci uscire allo scoperto! Ah, ecco gli altri! Siamo qui, professore! Abbiamo fatto più presto che potevamo, prof! Ragazzi, ma Davide? Veramente noi pensavamo che fosse già qui! Ma allora, dov'è finito? Abbiamo litigato! Senza lui è dura! Come facciamo ad uscire... Ehi, dove siamo qui? Ci vediamo giù, ragazzi! Ehi, dove siamo qui! 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 Divertente, eh? Andiamo al molo, è giusto? Ed è lì che quei mostri ci troveranno.